Sindaco Leo Castiglione ha zerato una decina di giorni fa la sua giunta ed oggi presenta la nuova squadra di governo. Quali le conferme, quali le novità? In coerenza, quando ha fermato appunto dieci giorni fa, oggi presento la nuova giunta che è espressione della nuova maggioranza che è venuta fuori dal Consiglio Comunale dopo l'approvazione del bilancio. Di conferme c'è il Vice Sindaco Cristiana Canosa, poi c'è il subentro del Dottor Vincenzo Polidori, dell'Avvocato Tommaso Ceri, dell'Architetto Federica Pace e dell'Avvocato Giorgio Marcheggiano. Quale valutazione politica dà tutto questo passaggio che ha portato alla composizione della nuova giunta? A differenza del primo azzeramento al quale fui costretto da tre consiglieri che mi sfiduciarono e quindi uscirono dalla maggioranza, oggi è semplicemente un atto dovuto perché dopo l'approvazione del consolidato, quindi dell'ultimo atto finanziario all'interno dell'esercizio 2022, io ho ritenuto opportuno rifare, rimettere, diciamo sistemare gli equilibri della squadra di governo a fronte appunto della nuova maggioranza. Quindi questa giunta è espressione della nuova maggioranza a nove che ho l'onere e l'onore di guidare il più a lungo possibile. Si è parlato però anche di una crisi di maggioranza, cosa risponde a questo? Che non c'è nessuna crisi, ripeto, è un atto dovuto a fronte di una nuova maggioranza venuta fuori dal Consiglio Comune alla di approvazione del bilancio. Quindi chi ha messo in giro queste voci, mente sapendo di mentire, ma ormai siamo abituati a questa esposizione mediatica di chi vuole mistificare la realtà. Noi abbiamo un solo dovere che è quello del senso di responsabilità nell'amministrare una città, la mia nuova giunta già da oggi sarà al lavoro per il bene della città. La nuova squadra di Leo Castiglione è dunque composta da Cristiana Canusa, vice sindaco, con deleghe anche agli eventi, al commercio e ai lavori pubblici, Giorgio Marcheggiano con le deleghe bilancio, politiche sociali, cultura, Tommaso Ceri, deleghe porto, demanio, attività produttive, Vincenzo Polidori, deleghe alla sanità, ai servizi demografici, alla polizia locale, alle risorse umane, fedeli capaci, urbanistica, ambiente, mobilità sostenibile, viabilità.